Joe Boxes. Share your idea. Start your business. In questa casa viveva Angelo, un ragazzo con un'idea brillante. Era determinato a realizzarla, ma fu sconfitto da alcuni grandi ostacoli. Cercava dei bandi a cui partecipare, ma il sistema era complesso e burocratico. Doveva trovare le persone giuste, ma dove le poteva incontrare? Aveva bisogno di un finanziamento, ma come poteva farsi notare dagli investitori? Voleva rendere visibile la sua idea, ma in che modo poteva riuscirci? A questi problemi Angelo non ha trovato soluzioni. Tutto questo è il passato. Ora nasce Joe Boxes. Joe Boxes è il business network delle start-up che soddisfa i tuoi bisogni. Entrando potrai iscriverti al portale Bandi Semplificato. Ospettiamo Changemakers, persone come te interessate al cambiamento sociale. E se cercavi una figura per il tuo team, qui la troverai. Infine la visibilità nella community attirerà l'interesse degli investitori partner verso il tuo progetto. Cosa aspetti? Entra nel nostro mondo. Entra nel futuro. Joe Boxes. Welcome to the future.